Per me viene strumentalizzato come spesso succede quando Matteo Salvini parla, parla dei temi sia dell'immigrazione che sia delle donne. Penso che sia sempre stato chiaro sul fatto che la legge sull'aborto non deve essere toccata la libertà totale delle donne. Poi sicuramente c'è un capitolo da affrontare, ma soprattutto anche per queste donne che spesso pensiamo anche alla tratta delle nigeriane che vengono portate qua, che finiscono in mano alla criminalità, che le fa prostituire, che si trovano spesso a abortire tante volte e molte volte non perché vogliono loro. Per cui questo è un tema sicuramente che dovremo affrontare tutti perché è un tema di civiltà, è un tema per cercare di aiutare tutte queste donne e come tutti sappiamo è molto difficile soprattutto per quanto riguarda le nigeriane perché vengono minacciate, vengono minacciate le famiglie che hanno a casa, poi dopo anche, penso alla macumba, tanti altri riti oltre questo e sono spaventate, è difficile anche portarle via. Io a Bologna spesso abbiamo trattato il tema e è difficile perché essendo spesso sfruttate e gestite da altre donne, queste donne magari vengono e fingono di essere persone sfruttate per sapere dove sono le altre, insomma è una situazione molto difficile, sicuramente va trattato, questo non è che vuol dire.